Tra poco Sul canale 17 di Fanno TV, l'informazione locale Gominata dai carabinieri la banda dei record Oltre 100 i furti messi a segno a Pesaro, Fano, Senigallia, Iesi e in Vallesina I vigili urbani festeggiano il 152esimo anniversario di fondazione Il comandante Fuligno stila un bilancio e nell'intervista dichiara troppe le offese gratuite rivolte ai nostri agenti Nozze d'oro per la Fiera Nazionale del Tartufo Bianco di Acqualagna Fra poco nei nostri studi il sindaco Andrea Pierotti MotoGP, il TAS respinge il ricorso, Valentino Rossi parte ultimo a Valencia Buonasera, benvenuti a Occhio alla Notizia I carabinieri di Iesi hanno sgominato una banda di 11 moldavi Ritenuti responsabili di oltre 100 furti in tutta la regione Marche Compresa anche la nostra provincia Sentiamo il servizio di Simona Zonghetti Hanno messo a segno almeno 100 furti tra marzo e ottobre A Pesaro, Fano, Senigallia, Iesi e in Vallesina I danni di ditte di autotrasporti, cantieri edili, stazioni di servizio carburanti, officine e autolavaggi I responsabili 11 moldavi avrebbero agito in sottogruppi di 4-5 alla volta Valendosi della conoscenza del territorio maturata da alcuni di loro che da tempo vivono nelle Marche La merce trafugata per un valore complessivo di oltre 70.000 euro sarebbe stata poi rivenduta nella Repubblica Moldava Le indagini condotte dal nucleo operativo radiomobile di Iesi sotto la guida del comandante della compagnia carabinieri Benedetto Iurlaro Proseguono per individuare i canali utilizzati per il contrabbando Ieri sono state eseguite diverse ordinanze e perquisizioni Quattro indagati hanno l'obbligo di dimora, tra loro due moldavi residenti a Iesi di 30 e 32 anni Altri sette sono stati denunciati per furto aggravato in concorso Le perquisizioni hanno consentito di recuperare varia refurtiva Tra cui due impastatrici per cemento, attrezzatura da carpenteria edile, motori marini, tagliaerba e macchinari di vario tipo La merce era stoccata in un magazzino apparentemente abbandonato nel territorio di Pesaro e utilizzato dalla banda dopo ogni colpo E i vigili urbani di Fano hanno celebrato oggi l'anniversario della fondazione Per l'occasione il comandante Fuligno ha stilato un bilancio di quest'anno di lavoro Sentiamo Vigili urbani in festa per il 152esimo anniversario di fondazione Dopo una santa messa celebrata alla chiesa di San Paterniano alla presenza di autorità civili, militari e religiose È stata l'occasione oggi non solo per presentare il bilancio del corpo fanese Ma anche per togliere qualche sassolino dalla scarpa A farlo il comandante della polizia municipale Giorgio Fuligno Noi sostanzialmente ci sentiamo a servizio della collettività E ci sentiamo anche di poterci fornire un giudizio positivo di quest'anno Per quanto ovviamente dicevo come persone possiamo anche avere sbagliato Possiamo anche essere soggetti a critica La critica la riteniamo una cosa costruttiva e positiva Viceversa ci rammarica l'offesa gratuita che viene fatta nei confronti di chi lavora Dei lavoratori per istituzioni, dei lavoratori della polizia municipale Così come anche per quelli delle altre forze di polizia Il nostro lavoro è difficile, è un lavoro che ci mette a repentaglio Che rimette a repentaglio quotidianamente la nostra incolumità Lo facciamo con dignità, lo facciamo anche con convinzione Abbiamo fatto una scelta, non ce l'ha detto il medico di venire a fare Il comandante della polizia municipale o il vigile urbano Non ce l'ha chiesto il medico, l'abbiamo fatto Lo facciamo con spirito di sacrificio Ripeto, possiamo anche sbagliare Però l'offesa gratuita ci rammarica Il vice comandante Anna Rita Montagna ha illustrato invece i risultati conseguiti dal 1 gennaio al 31 ottobre Sono state elevate oltre 22.000 sanzioni Di cui 18.400 per divieto di sosta Oltre 1.100 per velocità eccessiva 48 per l'uso dei cellulari alla guida E 37 per il mancato allaccio delle cinture di sicurezza 16 invece sono le sanzioni che riguardano i conducenti con patenti scadute Circa 300 quelle per omessa revisione E 106 per la circolazione con veicolo sottoposto a fermo fiscale L'incasso per quanto riguarda le multe è stato di circa un milione di euro come lo scorso anno Nei primi dieci mesi del 2015 inoltre sono stati rilevati 221 incidenti stradali Ma le attività del corpo, come sottolineato dagli agenti, sono molteplici E vanno dagli accertamenti sul corretto smaltimento dei rifiuti Al controllo sull'inquinamento atmosferico e sull'amianto Dalle pratiche abitative alle informazioni di anagrafe Proseguiranno anche i controlli in borghese per verificare la corretta raccolta degli escrementi dei cani E si sta pensando di organizzare degli incontri nei vari quartieri di Fano Per un percorso di dialogo, formazione e informazione con i cittadini Una prevenzione che viene già effettuata con le scuole di ogni ordine e grado Siamo negli istituti superiori per un progetto che è organizzato da ADOC in collaborazione con la Regione Marche E che coinvolge diverse istituzioni, tra cui anche la Polizia Municipale Per sensibilizzare i ragazzi sul tema importante della sicurezza Fra attività di prevenzione posso anche dire i corsi che siamo autorizzati a tenere Sul recupero di punti decurtati dalla patente di guida In cui appunto è un'attività che mettiamo in campo Finalizzata proprio a venire incontro ai cittadini E consentirgli di recuperare quei punti persi sulla patente di guida E come avete visto dalle immagini presente alla cerimonia anche il sindaco Massimo Seri Che ha annunciato e confermato l'acquisto di nuove telecamere E l'assunzione di vigili urbani per il 2017 Sentiamo Nuovi progetti per aumentare la sicurezza nella città della fortuna Sono in arrivo a partire già dal prossimo anno Dopo l'installazione di quattro telecamere alla stazione ferroviaria di Fano Risorse permettendo ne verranno aggiunte altre in posti diversi Che serviranno non solo contro i furbetti della strada Ma potranno essere d'aiuto alle forze dell'ordine per le indagini investigative Arriba dirlo in occasione del 152esimo anniversario della fondazione del corpo di vigili urbani E' stato il sindaco Massimo Seri Che al suo insediamento a maggio dello scorso anno Aveva deciso di tenere per sé la delega alla polizia municipale C'è un programma che concordiamo anche con la prefettura Fra l'altro la settimana prossima abbiamo un incontro proprio per questo Voglio anche cogliere questa occasione per ringraziare tutto il corpo di polizia municipale Per il lavoro che hanno svolto E per la sensibilità consapevole anche delle difficoltà del momento Sono sotto organico ma soprattutto anche un momento difficile sul piano anche sociale Per cui svolgere un ruolo come questo è complicato E' stato infatti un bilancio positivo ma ricco di difficoltà Quello illustrato oggi dai vertici della polizia municipale di Fano Hanno dovuto operare infatti con sette persone in meno rispetto allo scorso anno Per questo il primo cittadino sta pensando già dal 2017 di aumentare l'organico con nuove assunzioni Il compito della polizia municipale è anche quello di essere vicino al cittadino Di fare una serie di servizi a disposizione del cittadino E se pensiamo all'estate, al periodo in cui siamo città turistica Anche certe funzioni, certi servizi aumentano Per cui avere anche maggiore persone che possono svolgere questa funzione è importante Quindi anche per questo ripeto e voglio rinnovare questo ringraziamento Perché se lo meritano Anche per alcune volte troppe critiche ingenerose Perché poi se andiamo, ripensiamo anche le polemiche di quest'estate Andiamo a verificare i numeri Ci accorgiamo che non corrispondevano esattamente alla realtà Ed ora una notizia dal sapore della solidarietà Perché sabato verrà offerto un pranzo al mercato ittico di Fano Per i più bisognosi e per i poveri Quest'anno è il secondo E il terzo invece dallo scorso anno Quando abbiamo iniziato questa collaborazione con la Comar Pesca e la Marineria Fanese Che con grande spirito di generosità e di collaborazione Ci ha dato questa disponibilità ad organizzare dei pasti Per i poveri Per gli ospiti che frequentano abitualmente la mensa di San Paterniano Ed anche per altre realtà incluse i richiedenti asilo che noi abbiamo accolto Ecco, diciamo quest'anno ne è stato già fatto uno nel periodo di Pasqua Dove siamo stati ospitati a Ponte Sasso dal ristorante La Lanterna Il pranzo è per circa 100 persone Qui verrà consegnato un buono Quindi abbiamo bisogno di regolamentare anche le presenze Proprio per poter dare un buon servizio e un servizio di qualità Sarà una giornata in cui potremo mangiare dell'ottimo pesce Come quello che sa cucinare la marineria nostra, locale E sarà anche un momento di festa Perché insieme poi al pranzo ci saranno momenti di condivisione, di musica e di gioia E' morto a Roma all'età di 96 anni Antonio Glauco Casanova Fanese, ex esponente del BSD e direttore del quotidiano del partito Lumenità Già segretario particolare dell'ex ministro Luigi Preti Casanova è stato per decenni socio della fondazione Cassa di Risparmio di Fano Il comune gli aveva conferito per il suo impegno culturale, sociale e politico Il premio La Fortuna d'Oro nel 1990 La fondazione e il sindaco Massimo Seri si associano al dolore della famiglia E di tutti quelli che lo hanno conosciuto Per il quinto anno consecutivo l'Avis di Fano ha organizzato un Donor Day tutto in rosa La donazione appunto al femminile Chi dice donna dice dono Con questo slogan la sezione Avis di Fano ha lanciato il Donor Day tutto al femminile Una giornata come ogni anno avviene tutta dedicata alla donazione in rosa Per evidenziare come la donna riveste un ruolo esenziale nell'economia della sezione Rappresentando più di un terzo di tutti gli oltre 4.000 iscritti Nelle giornate del 29 e 30 ottobre 57 donne si sono presentate al punto Avis Nel centro trasfusionale dell'ospedale di Fano per donare Di cui tre nuove iscritte Nel 2015 le donatrici sono state 682 Ben 33 in più del 2014 Numeri di cui andare sicuramente orgogliosi Siamo al quinto anno e anche quest'anno appunto non potevamo essere presenti Oltretutto quest'anno abbiamo una novità perché la solidarietà si sta allargando E siamo scesi in campo insieme alla Lilt Perché proprio abbiamo trovato in questa associazione tante affinità Quali prima di tutto è l'informazione, il fatto della prevenzione Perché loro puntano proprio lo slogan prevenire, vivere E noi quello che non è mai troppo tardi per donare Il fatto della donazione in rosa è molto importante È nata appunto cinque anni fa analizzando proprio i dati delle donazioni Perché abbiamo visto che i dati donazionali delle donne erano molto inferiori Si sta per un fatto fisico però magari era molta la differenza Abbiamo fatto così questa campagna di anno in anno E adesso siamo già arrivati al 30% delle donne donatrici E questo dato oltretutto che è piacevole è sempre in aumento E quindi noi ogni anno cerchiamo di essere pronti a questo appuntamento Ebbene si è giocato un po' sul detto Chi dice donna dice dono Siamo agli eventi Domani venerdì 6 novembre alle ore 16.30 Nell'Aula Magna dell'Università Palazzo San Michele a Fano Iniziano le conferenze organizzate dall'Unilit Domani per quella inaugurale il tema sarà La ricerca scientifica nella individuazione dei criminali Con la prestigiosa presenza del professor Emiliano Giardina Docente di Genetica all'Università di Tor Vergata di Roma Collaboratore della Polizia Scientifica della Direzione Centrale Anticrimine È stato lui ad arrivare alla conclusione Che il killer fosse il figlio illegittimo dell'autista Nel delitto di Iarea Gambirasio E siamo anche a una notizia golosa Perché è la pesarese Lisa Tomasucci La prima semifinalista di Chef in the City La gara culinaria per cuochi provetti non professionisti Hanno preso il via i quarti di finale di Chef in the City La gara di cucina amatoriale della provincia di Pesero Urbino Considerata la ricetta anticrisi per i ristoranti del territorio Promosso ad Accomunica SRL e giunta alla terza edizione La sfida continua a chiamare a raccolta gli appassionati dei fornelli e dell'arte e della buona tavola Così come è avvenuto mercoledì sera quando è stata decretata la prima finalista Lisa Tomasucci impiegata di Pesero ha conquistato la giuria popolare tecnica con i suoi calamari in luna di miele Ne è stato apprezzato non solo il gusto ma anche la presentazione e l'originalità Il piatto che ho cucinato questa sera sono calamari in luna di miele Sono dei calamari pieni di verdure, sono a base di pendolini con le canocchie e sopra un letto di patate a rosto Non ha sfigurato nemmeno l'antipasto di Filippo Tranquilli, fanese con la passione per la recitazione in dialetto Il piatto che ho cucinato questa sera è un antipasto di pesce composto da 5 elementi Filette di soviola, filette di triglia, acciughe, seppie e mazzancolle E si chiama processione Sigismondo Pandolfo Malatesta Entrambi hanno avuto a disposizione per cucinare solo pesce dell'Adriatico e verdure di stagione Questa sera invece è previsto il secondo quarto di finale al ristorante Fish House di Fano che metterà a confronto l'imprenditrice pesarese Carmen Iacovetti e la commerciante albanese mafanese di adozione Lulietta Marco Anche in questa sfida ai fornelli il protagonista del menù sarà il pesce Bene, rimaniamo in termini gastronomici perché andiamo ad Acqualagna dove in questi fine settimana si tiene la fiera nazionale del tartufo bianco una fiera particolarmente ricca quest'anno in virtù del fatto che festeggia le nozze d'oro i suoi 50 anni. Noi abbiamo in studio Andrea Pierotti che è il sindaco di Acqualagna che salutiamo subito. Buonasera sindaco Buonasera Allora, che edizione è quella del cinquantesimo anno? Di celebrazioni sicuramente perché 50 anni sono tanti l'abbiamo voluto celebrare con un libro, con una pubblicazione che ripercorre un po' tutte le edizioni passate un'edizione baciata dal sole e ora sembra anche dal tartufo perché ecco il periodo migliore per il tartufo è novembre e sta uscendo del tartufo pregiato insomma con una qualità importante Ecco quindi questo fine settimana è il prossimo ancora l'altro ancora che saranno gli ultimi due saranno insomma dal punto di vista della trifola insomma i più pregiati Sì, è possibile osservare l'oscillazione anche quotidiana ormai del prezzo del tartufo nel sito del comune acqualagna.com dove c'è la famosa borsa del tartufo che veramente fa vedere le oscillazioni del prezzo e sicuramente si sta abbassando notevolmente per cui ecco diventa è partito un po' astentato ma invece ora è veramente disponibile la qualità è la qualità ottima e quindi fino al 15 novembre questa grande occasione di gustare il tartufo ad acqualagna Ecco ha tagliato il nastro dell'inaugurazione un grande chef conosciuto in tutto il mondo Gualtiero Marchesi ha dato il via e il là però insomma è un susseguirsi di chef stellati, di eventi avete messo insieme un programma veramente estremamente ricco e particolareggiato Ricco perché ecco il protagonista del tartufo è la piazza del tartufo legati alla cucina, al mondo della cucina dalla cucina macrobiotica agli oli monovarietali e soprattutto questi chef che si alternano nello spazio più importante che è il saluto da gustare questi cooking show stellati con cuochi anche stranieri e quegli televisivi su più resi celebre della televisione Giorgione, Valentina Scarnecchia e poi tanti personaggi anche nel mondo dello spettacolo sabato ci sarà Magali che ci viene a trovare sempre momenti anche dedicati alla cultura, mostre, presentazioni di libri veramente una grande kermesse che abbraccia un po' tutte le eccellenze enogastronomiche locali e culturali anche Ecco, in chiusura vi diciamo che tutto questo tutta la magnificenza di questi 50 anni sono racchiusi in un volume che chi vuole può acquistare e ripercorrere un po' tutta la storia della vostra fiera Un omaggio anche a chi compie 50 anni perché appunto chiediamo di celebrarlo in Acqualagna per tutti i 50 anni abbiamo un piccolo omaggio al tartufo l'iniziativa si chiama 50 come te quindi invitiamo anche quest'ulteriore fascia a venire a festeggiare ad Acqualagna Bene, grazie Sindaco per essere stato con noi e per averci dato questo spaccato del nostro territorio Grazie, grazie a voi Ebbene, buone prospettive quindi per gli amanti della Trifola Ed ora chiudiamo con la notizia di sport che avete sentito nei titoli di apertura ahimè negativa per Valentino Rossi perché il Tribunale arbitrale dello sport con sede a Lausanna ha respinto il ricorso presentato dal motociclista Valentino Rossi contro la decisione della direzione del Mondiale di MotoGP di sanzionarlo per il sorpasso su Marquez durante il GP di Sepang che causò la caduta di Marquez Il dottore quindi dovrà cominciare dall'ultimo posto la gara di Valencia che si correrà domenica 8 novembre l'ultima del campionato mondiale che sarà decisiva per stabilire chi tra lui e il pilota spagnolo Jorge Lorenzo lo vincerà Per il sindaco di Pesaro Matteo Ricci il verdetto del TAS di Lausanna è una decisione incredibile e ha la volontà di ostacolarlo in tutti i modi è stata evidente Deluso dalla sentenza Ricci crede ancora che Rossi possa rimontare dall'ultima posizione e vincere il suo decimo mondiale Ebbene Rossi ci ha sicuramente abituato a rimonte e a performance eccezionali Si chiude qui questa edizione di Occhio alla Notizia grazie per essere stati in nostra compagnia vi lascio al proseguo delle trasmissioni su Fano TV Buona serata a tutti voi Grazie a tutti Grazie a tutti